Allora, il lavoro che facciamo nell'Aikido è sempre a coppia, non esiste il lavoro da solo. Allora, partiamo da questa posizione, posizione a specchio, quindi scomincia la mano a destra, lui prende con la mano sotto. Di qua, adesso, partendo con i piedi uniti, scivolano i piedi davanti e giro per portarmi di fianco a destra. La strategia dell'Aikido prevede di entrare nella guardia e cercare di andare o lateralmente o posteriormente. Quindi di qua, scivolando i piedi davanti, giro, facciamo il movimento che abbiamo fatto prima, rimanendo poi alla fine in questa posizione. Proviamo solo questo. Chi viene a prendere rimane nella sua posizione, cercando di mantenere questo contatto e di non lasciare, ma anche tenendo. Cercate di non fare questo. Adesso non è in contatto. Partendo da piedi uniti, piede scivola, la mano rimane questa. Ma devo spostare solo il corpo. Lui ha preso questa parte, di qua mi sposto. Va bene? Proviamo? Accordati del compagno, decidete chi comincia.